Quella la la chiama E6 4 Quella la la chiama E6 4 3 Ah è bella fra Eccola la che arriva molto lentamente Siamo alla stazione di ammizzi termici centrale E oggi ragazzi abbiamo visto per la prima volta la E4 4 La 006, una delle prime hanno la 0016 Guarda qua E' una bella fra che c'è un'altra Eccola qui il Merch Italia Rend La più grande che c'è che c'è Guardate che c'è molto E' un'altra stessa buoni Merch E' un buon che non si sa perché si ferma Voi non sapete che casino ha fatto per fermarsi Non avete capito il casino Vedete aspetteremo che vi passi là Beh magari Ah ha capito perché Ok ragazzi eccolo là Scende il macchinista Sembra però rosso E' andato a vedere qualcosa Andiamo a vedere qualcosa Che cosa è? Attiva Andiamoci Ok ragazzi Date il via Eccolo là Andiamo a vedere Del cameraman Il nostro video E dove? Dato direi ragazzi che siamo qua Sai voi che ci sono adorato un bel moto Ma la E' un pericolo Merch Cogliere Vabbè Vi starlo piano Ecco Ma ho detto E' un pericolo E ragazzi Poi Tu Ma tu Ma tu Ma tu Questa è la cosa Supera del moto e va bene abbiamo appartato vabbè ragazzi ci vediamo la prossima riparta questa è la cosa che c'è stato da fare ecco, cosa non c'è l'inglese? questa è la notte sì, questo qui mi sembra una mincisternetta qui non sono messi a posto posso dire che questa è una mincisternetta la documentativa al fondo ci sono ancora i container tutto e non si sa dove andrà e ancora fermo la KM 494 di una mezza termine centrale fermo per un semacolo rosso e aspetteremo che il suo semacolo rosso ripartirà e proviamo di ritornare dalla documentativa e ragazzi e ragazzi siamo attenti e beh questo è un bel container è quella che riesce in un punto chiudiamo la porta e beh il video sta durando un bel volto ma chissà perché è stato fermo vero compagno chi sappia che fermo vabbè vediamo che c'è un ale un ale c'è una cabina del minuetto delle TR 425 siamo ancora qui siamo ancora qui siamo ancora qui ciao ragazzi ciao ragazzi mi piace iscrivetevi a questo canale è uscito stava uscendo un nuovo video io non so perché ma mi hanno uscito troppo la canzone il computer ragazzi questa è la parte 1 della locomotive ACHEM è Eurostar ACHEM 9 100 9 494 ragazzi noi ci aspettiamo in un prossimo video appena ripartirà quelli minchiosissimi se ne va for rosso ciao ragazzi alla prossima alla parte 2